musica 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 e ciò uno a uno con la capolista i fatti incazza a pomande il pareggio che visti a stretta insomma che avete messo in mente fammi capire va bene e che ci siamo messo in mente niente la partita voi l'avate visti mi potete dirci tutto però la soddisfazione di mettere la sgambetta a pomande non me la potete levare i nostri tifosi l'ha preso come una vittoria e giustamente abita a sparare le butte qua a forma ma che potete fare quale è il problema adesso ora ti hai fatto armare te la paura che ci sei inciso questo fa la festa mister appiccite pure la fornacella ma muoviamoci a fare l'intervista che mamma ti ha fame ha sfiammato la braccia mi piace che sei un bicchiere che ti ha acchiappato il padrone o mister muoviamoci a fare l'intervista che ora siamo a mangiare tutte le migni e una vendetta ma una vendetta me la posso pure mangiare quale è il problema tanto amma le ingazzature diciamo che già sono passate quindi una vendetta da sport me la posso pure mangiare li fa la sport dipende se li fa la sport l'unica cosa che stiamo a fare presto è per quale il presidente è già andato al bustale e ci sta aspettando quindi non è che potremmo fare tante tardi che non è mai il campo imperatore come è il campo imperatore? beh sì infatti noi a costa neve non pensavamo di giocare a pallone infatti il presidente ha caricato il bob e c'è tutte cose se non c'è il bustale e ora siamo a fare una campagna dopo a metà strada si è ricordata che stiamo a aiutare oh Manuè ma perché Nikita non insegna più tu lo sai? eh sì io le sacci perché non insegna più ma ora che te le venga diciamo ma dai stiamo a fare l'intervista eh lele eh ma buono allora mi ha dato l'idea che è successo che praticamente il presidente Rashtelli eh praticamente gli aveva promesso non può chiedere tutto per lui però alla fine non gliela date ecco qua otti ma tu deva rassa Manu per lo anima ma non è diretto ti sto a fare lo scherzo c'è un paura che non mi riconoscevi senza mascherina allora ho fatto lo scherzo vabbò ma mo che c'eravamo mezzo abituati ti le levate che film? eh e ne va buono cioè capite mo mi fate la domanda e mi mandi in confusione e in giusto capite niente e la vuoi rifare? eh e va buono allora quassù e me che cenariamo e poi camisar gli litri pite ci sta meno quindici tanto un po' facciamo la fede della Juve ecco qua